Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Fare attenzione per nebbia segnalata in A1 tra Roncobilaccio e Aglio. Sulla Fipilip. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni possibili disagi tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo, Fiorentino in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio ma vi ricordiamo anche di uscire di casa soltanto per esigenze impellenti rispettando il decreto governativo.